Presidente, una collaborazione costruttiva quella con la fiera di Lanciano in merito alla 54esima edizione della fiera dell'agricoltura, quindi si privilegia il trasporto pubblico? Si tinge di verde questa bellissima manifestazione, si predilige il trasporto pubblico locale, con qualsiasi mezzo di trasporto pubblico si arrivi a Lanciano, ci sarà poi dalla stazione, quella ferroviaria, piuttosto che quella con i pullman, si può arrivare poi qui in fiera dell'agricoltura con un'agevolazione per il biglietto d'ingresso e con mezzi messi a disposizione dalla ferroviaria dell'agricoltura. Grazie